Seconda estate purtroppo segnata ancora dalla pandemia, c'è un po' il ritorno all'utilizzo del camper? C'è un po' il ritorno e bisogno, dato che il camper rappresenta un po' la sicurezza e l'intimità che in questo momento abbiamo bisogno. Una esperienza adatta alle persone di una certa età ma anche alle famiglie con bambini? Famiglie, bambini, coppie giovani, persone con animali che riescono ad avere libertà sia nell'aria aperta che nell'intimità dell'interno del camper. Anche perché soprattutto le aree camper come i parcheggi, come anche i campeggi sono in qualsiasi località? Località, mare, montagna, lago, è bello perché si può variare e spaziare in diversi ambiti. Da imprenditore c'è stata una richiesta maggiore nell'ultimo anno? Sì, c'è stata una richiesta maggiore specialmente dalle famiglie giovani, con bambini che hanno proprio bisogno di libertà, di intimità, come diceva Silvia. I bambini poi apprezzano subito comunque l'intimità del camper, della loro cameretta, eccetera. Abbiamo notato e visto che su esempio 100 veicoli venduti nessuno è ritornato a riportarlo, insomma, quindi hanno apprezzato comunque la vita del camper. Quindi c'è anche persone che sono la prima esperienza? Assolutamente sì, tantissime prime esperienze. Assolutamente sì, tantissime prime. Grazie.